La Gcom ci ha dato ragione e ha sanzionato il Comune di Venezia perché ha contravenuto alle norme che regolano la comunicazione delle amministrazioni pubbliche durante il periodo di campagna elettorale. Il sindaco infatti aveva indetto una conferenza stampa dove presentava e faceva endorsement ad una specifica compagine politica. Il sindaco può esprimere da libero cittadino qualsiasi opinione e dare anche un'indicazione personale, però non può farlo quando è in veste di amministratore pubblico e nelle sedi specifiche dell'amministrazione.